Ragione e sentimento, questo è un po' il leitmotiv che sottolinea la grande partecipazione non solo degli studenti in prima linea, se vogliamo, ma anche di tutta la città. Ma parlando di memoria, garanzia di libertà, parliamo di macerata ma al tempo stesso guardiamo al mondo, guardiamo a ciò che è accaduto nel passato e guardiamo al presente con il tema quest'anno dedicato dopo gli ospedali psichiatrici giudiziari ai centri di immigrazione ed espulsione. Ha fatto da copertina della manifestazione l'immagine di Ahmed, il siriano in fuga dalla sua terra, colto durante lavaggio per debellare la scabbia e i pidocchi, nudo e umiliato nel piazzale del centro di prima accoglienza di Lampedusa. Alla giornata hanno partecipato con testimonianze video, letterarie e poetiche Loredana Fedeli, Isacco Mori, Paolo Nanni, Alessandro Seri, Matteo Antonini, Mari Caviolini, sono anche intervenuti Massimiliano Bianchini, Federica Curzi, il senatore Luigi Manconi e il sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini. Una giornata che deve spingere tutti a far riflettere, è molto importante che questi momenti vengano condivisi soprattutto nei giovani, quindi nelle scuole, nelle università, perché sicuramente non dimenticare e ricordare ciò che è accaduto in passato è molto importante. Poi in particolare se si può trovare un riferimento anche alla contemporaneità si può dire che io mi occupo appunto come hai detto tu del Mediterraneo, quindi in realtà della cultura e delle culture del Mediterraneo. In questo Mediterraneo ancora le discriminazioni e le differenze sono moltissime e sicuramente si sta vivendo anche oggi ciò che casomai è successo in passato e si vuole ricordare attraverso la giornata della memoria. Testimonianza poetica anche dell'attore maceratese Pier Giorgio Pietroni. Le notti e le nebbie di Bordeaux annunciarono a Jean Carole un'altra notte, un'altra nebbia da cui soltanto per un miracolo è riuscito a tornare, con quel canto tragico sulle labbra e tutti i corpi crocifissi dei suoi compagni che non finirà mai di portare su di sé corpi che per lui ormai sono appesi alla medesima croce.